Attenzione intanto al nuovo attacco portato avanti, la botta di Sansone, il piattone Missiroli! E fanno due, il raddoppio del Sassuolo porta la firma di Simone Missiroli, primo gol in campionato anche per lui. Fanno nove in Serie A, piattone facile, facile dopo la traiettoria sporcata, Marchetti è battuto per la seconda volta. La gioia di Simone Missiroli, Sassuolo 2, Lazio 0. Posizione regolare per tutti gli attaccanti del Sassuolo, liscia un po' Sansone, ma praticamente mette nella condizione migliore Missiroli per battere a rete. E' il numero 7, Nero Verde, castiga Marchetti. Lazio decisamente opaca e il Sassuolo ne sta approfittando.